Allora la prossima volta tu darai una festa e io ti darò una mano a prepararla, Cappuccino, che te ne pare? Ma io non so cucinare, Cinnamon! Cinnamon e le pulizie di primavera Benvenuti al Cinnamon Café! Il menù speciale di oggi è... Dare una mano è divertente! Cinnamon, vuoi giocare con noi? Ciao ragazzi! Mi piacerebbe tanto, ma prima devo finire i mestieri! Peccato! Volevo giocare con te! Ho trovato! Ti daremo una mano a fare le pulizie! Ti va? Sì dai, ti aiutiamo anche noi! Grazie, bambini! Forza, cantiamo tutti insieme, così Cinnamon potrà giocare con noi! Cantate anche voi, ragazzi! Oggi da una mano aiuto un po' a pulire È divertente, sai, e prima si finirà! Bravi! Apparecchiamo, parecchiamo, parecchiamo insieme Fallo insieme a noi! È divertente aiutare Farlo insieme a noi! Piego i panni A poco a poco È divertente, sai! Pulisco i vetri A poco a poco Farlo insieme a noi Grazie! Si fa piacere il tasto e una mano si dà È divertente, sì! Su, su, su! Grazie per l'aiuto, ragazzi! Grazie anche a te! Grazie anche a voi! Se puliamo insieme Prima finiremo È più divertente Il tempo passa, lo sai Ci si diverte Se una mano si dà Fallo insieme a noi Oh, che bravi! Il giornale Eccolo qua Lo porto al mio papà Tutti insieme Puliamo l'auto E prima finiremo La spazzatura Nel bidone Insieme la buttiamo Si fa piacere il tasto e una mano si dà È divertente, sì! Ci si diverte Se una mano si dà Fallo insieme a noi Bambini, grazie! Grazie a tutti per l'aiuto che mi avete dato, ragazzi! Bene! E adesso, visto che abbiamo finito, potete andare a giocare! Viva! 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 Cosa metto nella borsetta? Un fazzoletto di staffa Uno di carta Una spazzola E dei fermagli per capelli E ora metto tutto in borsa Bene! Sono pronta! Ciao, ragazze! Ciao, Mokka! Ben arrivata! A cosa vorresti giocare? Mokka, che bella borsetta che hai! Oh, è vero! L'ho preparata con cura a casa! Anche a me piace molto! E dimmi, che cosa contiene? Un fazzoletto di stoffa Uno di carta Una spazzola E questi fermagli che mi piacciono tanto! Che brava! L'hai preparata da sola! Guardate! Io invece non ho portato niente! Così posso giocare in piena libertà? Dai, forza! Iniziamo a giocare! Oh, che meraviglia! Guardate! Ehi, vieni qui! Ehi, papallina, vieni qui! Ehi, papallina! Aspettaci! Ah, che bello! Potremmo riposarci un po'! Ragazze, è una sorpresa per voi! Ho preparato un dolcetto da mangiare insieme! Evviva! Prima, però, dobbiamo lavarci le mani! Accidenti! Non ho il fazzoletto! Anch'io ho dimenticato di portare il fazzoletto! Era davvero squisito! Era tutto buonissimo! Grazie mille, cinnamon! Bene, vorrei dire che ve lo rifarò! Però adesso ho tutte le manine appiccicose! Anch'io, guardate! Tieni, prendilo pure! Grazie, Moka! Amiche, facciamo un gioco! Vediamo chi di noi riesce a trovare la pietra più bella! Eh, ne ho trovata una! Eccone una! Trovata! Vediamo! Vediamo! Wow! Quella di Moka è la più luccicante, guardate! Ma la mia è la più grande di tutte! Ce n'erano molte altre dove ho trovato questa! Bene! Vorrei dire che questa volta troverò una pietra molto più grande e molto più bella! Anch'io! Anch'io! Dunque, vediamo! Non vedo nessuna pietra qui in giro! Non vedo niente! Ehi! L'ho trovata! Arrivo! Ho trovato una pietra bellissima! Guardate! Wow! Davvero? Eh sì! Guardate coi vostri occhi! Oh, Chiffon! Hai tutti i capelli per aria! Oh! È vero! Non riesco a sistemarli! Aspetta! Puoi provare con questa! A quanto pare anche la spazzola non servia molto! Non riesco a sistemarli! Aspetta! Prova così! Oh! Ecco fatto! Per oggi puoi tenerli! Te li presto volentieri! Sono simili a quelli di Mocha! Che belli! Ti stanno benissimo, Chiffon! Sono così felice! Grazie, Mocha! Anch'io voglio andare in giro con una borsetta come quella di Mocha! Anch'io, Chiffon! Ma chissà se riuscirò a prepararla da sola! Il segreto è preparare tutto il necessario prima di uscire! Non è difficile! Bene! Allora vorrà dire che domani porterò anche una borsetta! Fazzoletto di stoffa, di carta, il pettine e poi... Mocha, guarda! Anch'io ho preparato la borsetta! Un fazzoletto di stoffa, uno di carta, la spazzola o anche un cerotto! E questo barattolo in cui metterò le pietre che raccoglierò in giro! Che bello, Chiffon! Buona idea! Ti vuoi di riempirlo insieme a me? Sì! C'è Cinnamon! Guardate! Ho portato tutto il necessario! Cinnamon, tutto a posto! Siete pronti per uscire? Ciao, bambini! Benvenuti al Cinnamon Café! Ecco il menù speciale di oggi! Ragazzi, il pranzo al sacco è pronto! Oh! Ma non vi siete ancora preparati per il picnic, bambini? Cinnamon, stiamo giocando! Ci stiamo divertendo! Vieni anche tutti con noi! Eh? Ma dobbiamo prepararci! Prepararci? E perché dovremmo? Chi ne ha voglia? Ciao a tutti! Come state? Bambini, guardate! Sono qui per aiutarvi! Vi darò una mano a prepararvi! Are you ready? Siamo pronti per uscire! Presto che all'azilo andiamo! Ci dobbiamo preparare! Forza in piedi, ho il ritardo a arrivere! Are you ready? Sì, siamo pronti per uscire! Presto che all'azilo andiamo! Ci dobbiamo preparare! Forza in piedi, ho il ritardo a arrivere! Su, fallo con noi! Preparati dai! Chissà, se abbiamo tutto! Controllare doppiamo! Non perdiamo tempo a caccia aperti! Are you ready? Siamo pronti per uscire! Sì, sì! Siamo pronti! Presto a tardere! Il passolettino non deve mai mancare! Are you ready? Sì! Il quadernetto e il cappellino! Are you ready? Sì! Presto che all'azilo andiamo! Lo zaino è già pronto! Siamo pronti per uscire! Controllare dobbiamo! Non perdiamo tempo a caccia a tardi! Are you ready? Siamo pronti per uscire! Sì! Siamo pronti! Presto o tardere! La bottiglia d'acqua! La tavoletta di cioccolare! Are you ready? Sì! La tavolietta! Il passolettino! Are you ready? Are you ready? Siamo pronti per uscire! Presto che all'azilo andiamo! Ci dobbiamo preparare! Forte, vieni! Un ritardo a ridere! Avete capito, bambini? È importante prepararsi per l'asilo! Che bello! Are you ready? Un regalo per espresso! Bene, ecco fatto! Ora metto tutto nella scatola! Cinnamon, hai finito! Devo sbrigarmi! È finito! Ecco, mi arrivo! Sì, Namon! Adesso possiamo andare! Oh no, sì, Namon! Non hai visto che il semaforo stava per diventare rosso? Oh! Oh! Hai ragione! Non stavo guardando! Quando attraversi la strada, devi sempre controllare il semaforo! Lo farò! Il semaforo è diventato verde! Adesso possiamo attraversare! Quando è verde, si deve guardare la strada! A sinistra e a destra! Da una parte... E dall'altra! Ancora una volta da questa parte! Controlla bene che le auto siano ferme e poi attraversiamo! Va bene! Oh, c'è Schiffon! Ah, che bello! Ecco si la monemoca! Ciao, Schiffon! Stiamo andando a casa di Espresso! Perché non vieni insieme a noi a trovarlo? Sì, vengo! Aspettate un attimo! Oh!